Ciao ragazzi, oggi apriremo insieme il pacchettino numero 19 del calendario dell'avvento di BioAlchemilla e Vanity Space Scusate la mia voce ma sono raffreddatissima, quindi ho una voce un po' andata C'è una scatola Allora, acido ialuronico Alchemilla, si ero concentrato A questo punto io lo aprirei Ecco qua, allora, questa è una delle novità di Alchemilla E' appunto l'acido ialuronico che io adoro E sono quindi molto felice di provare pure questo Perché Alchemilla mi piace molto come marca Tra l'altro qui potete leggere l'Inci E' un prodotto molto ricco E niente, lo proverò, sono molto felice Questo calendario mi sta piacendo davvero davvero tanto Quindi ci vediamo domani, ciao! Ciao!